Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua nel video post partita di Genoa Bologna Sarà un video breve, scusate, come al solito sono in ritardo Niente ragazzi, Genoa che comunque vince 2-0 Tre punti fondamentali, tre punti che danno una boccata d'aria Nonostante la situazione sia tuttora difficile Se non avessimo vinto sabato probabilmente sarebbe diventata drastica Quindi tre punti che andavano fatti Contro comunque una squadra abbordabile Nonostante sia qualitativamente un po' più forte Era abbordabile e bisognava fare punti Bisognava fare tre punti Più che altro per la situazione difficile Che davvero colpisce il Genoa in questo momento Oltre al fatto che lo Spezia continua a vincere Bisogna veramente fare più punti possibili Perché ne abbiamo persi troppi E lo Spezia comunque continua a vincere Strano che la Sampdoria perda con la nostra realtà concorrente Ma comunque lo Spezia gioca Noi dobbiamo assolutamente far più punti possibili E dobbiamo assolutamente rafforzare la rosa Lo ha detto anche Ballardini Perché la rosa veramente non è completa Questo Genoa non è completo Mancano secondo me due difensori almeno Poi un centrocampista Abbiamo preso Strootman ma secondo me non regge tanto E volendo anche uno nel reparto d'attacco Ma in particolare il reparto difensivo va rafforzato Perché poi comunque a centrocampo se regge Hai trovato uno come Strootman Che alla fine Grammo non è Cioè ragazzi Grammo non è Strootman è un giocatore incredibile Speriamo appunto che regga Più che altro servono due nel reparto difensivo Perché Masiello non ce la fa più secondo me Poi Radovanovic non sta giocando male ultimamente Però non è di ruolo un difensore Criscito non so quanto possa reggere Comunque adesso vediamo Abbiamo la partita di Coppa Italia con la Juve Abbiamo la partita di Bergamo con l'Atalanta Due partite molto difficili Ma ricordate che la maglia va sempre onorata Quindi fuori i coglioni a Torino con la Juve Fuori i coglioni a Bergamo con l'Atalanta Poi abbiamo due partite fondamentali Con Cagliari in casa e Crotone a Lezio Scida Quindi ragazzi Saranno veramente partite fondamentali Ma anche quella di Bergamo Perché ragazzi Bisogna fare più punti possibili Provare anche a farli con le squadre più difficili Quindi con le squadre più difficili da affrontare Tipo col Sassuolo Serviva un punto Poi io capisco che perdere col Sassuolo ci sta Perder col Sassuolo ci può stare Ma insomma Dato che hai buttato troppi punti per strada Devi fare più punti possibili Con questo ragazzi io chiudo Vogliamo la maglia sudata Anche in queste due partite E bisogna fare più punti possibili Grazie a tutti E sempre forza Geno Ciao a tutti